Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota favoriscono condizioni di parziale instabilità con fenomeni a carattere di rovescio temporale in particolare su rilievi e zone interne. Da venerdì debole rimonta anticiclonica con tempo stabile e soleggiato, temperature ancora stazionare su valori elevati sempre fino a venerdì. Il dettaglio oggi mercoledì 3 luglio parziale instabilità con locali fenomeni a carattere di rovescio temporale in particolare sui versanti padani e sui rilievi alpini, possibili modesti passaggi nuvolosi in sconfinamento fino alle zone costiere. Dal tardo pomeriggio venti deboli in regime di brezza lungo la costa con rinforzi fino a moderati in serata sui settori centrale e orientale di direzione variabile nell'interno, mare poco mosso localmente mosso in serata sul centro, temperature massime stazionare lungo la costa tra 30 e 33 gradi nelle zone interne tra 31 e 33 gradi. Domani giovedì 4 luglio ancora condizioni di instabilità dalle prime ore della notte con fenomeni anche a carattere di rovescio temporale in particolare sulle Alpi Liguri. I fenomeni potranno estendersi a tutte le zone interne della regione nelle ore centrali della giornata. Modesti passaggi nuvolosi lungo le coste. Dal pomeriggio 20 al mattino settentrionali moderati sul settore centrale, deboli variabili altrove, dal pomeriggio deboli variabili o a regime di brezza. Mare poco mosso, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 22 e 26 gradi nelle zone interne intorno a 18 e 19 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 30 e 33 gradi nelle zone interne tra 29 e 32 gradi. Dopodomani venerdì 5 luglio stabile e soleggiato, possibile attività accumuliforme sui rilievi nelle ore più calde, venti inizialmente deboli in regime di brezza. Dal pomeriggio rinforzi fino a moderati dei quadranti meridionali sui settori centrali e sull'imperiese. Mare poco mosso, quasi calmo, temperature minime in aumento lungo la costa tra 23 e 28 gradi nelle zone interne intorno a 18 e 19 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 29 e 32 gradi, nelle zone interne tra 30 e 32 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!